Tutta l'area dei campi flegrei è caratterizzata dal bradisismo, ma la zona maggiormente interessata comprende parte dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e alcuni quartieri di Napoli. Nell'area possono verificarsi terremoti sotto forma di sciami sismici e emissioni di gas dal suolo. Alcuni di questi, in concentrazioni elevate, possono essere pericolosi per la salute. Per questo, se vivi in queste zone o le visiti, devi sapere come comportarti. Ecco qualche dritta per una crisi come questa. Consulta le fonti istituzionali per restare aggiornato sulla crisi bradisismica in atto e, più in generale, sul rischio vulcanico che interessa l'area dei campi flegrei. Informati sul piano di protezione civile del tuo comune o del comune che stai visitando. Se tu o una persona della tua famiglia avete bisogno di particolare assistenza, è importante segnalarlo al comune. Durante la scossa, se sei in casa, trova un posto sicuro come il vano di una porta robusta vicino a un muro spesso o portante, sotto un letto o un tavolo solido. Evita di stare in mezzo alla stanza perché potrebbero cadere oggetti o mobili. Se sei fuori casa, stai lontano da edifici, alberi e pali della luce. Potresti essere colpito da qualcosa. Controlla che tutti stiano bene e aiutali se necessario. Se il terremoto ha provocato danni alla tua casa o ci sono lesioni che prima non c'erano, i tuoi familiari possono chiamare i vigili del fuoco o il comune per chiedere un sopralluogo. Prima di uscire indossa le scarpe per evitare di ferirti. Evita l'ascensore e stai attento sulle scale. Potrebbero essere danneggiate. Una volta che il terremoto è finito, raggiungi subito le aree di attesa del comune. Non andare in cantine, garage o altre zone ribassate. È proprio lì che possono accumularsi i gas vulcanici. Non dormire in locali interrati o nei seminterrati. Evita le aree vicine alle emissioni di gas vulcanici. E ricorda, se hai dubbi, cerca informazioni sui siti istituzionali. Impara a riconoscere quali sono le fonti attendibili. Visita il sito www.iononrischio.gov.it e scopri il tuo attimo decisivo.